Siamo con Monsignor Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti. Inizia il tempo di Quaresima e vogliamo chiedergli cosa vuole dire alla comunità di Ocesana su questo tempo particolare dell'anno liturgico. Indubbiamente la Quaresima per i cristiani ha un significato, è un momento forte dell'anno liturgico, dell'anno della Chiesa in cui siamo richiamati alle cose essenziali della vita, siamo richiamati a riscoprire quegli elementi di fondo che danno senso alla vita per cui la Chiesa, i pastori della Chiesa, il Santo Padre dicono a noi cristiani, a tutti quanti cristiani che è un momento favorevole e già con l'inizio della Quaresima, il giorno delle ceneri, con quell'espressione che ci dice il sacerdote mettendoci un po' di cenere sulla fronte, ricordati di convertirti e di credere al Vangelo. Quindi la riscoperta principale è quella di riscoprire il Vangelo, il suo insegnamento e incominciare ad adeguarci a questa nuova legge che il Signore ci ha lasciato. Senta, lei ha citato la seconda delle formule che si dicono per imporre la cenere che sembra un po' più moderna, accettabile, convertiti e credi al Vangelo, convertiti e credi al Vangelo. Se ne può dire anche un'altra che è quella più antica, ricordati che sei polvere e polvere tornerai. Non le sembra un po' tetra e per certi versi anche un po' medievale? Un po' austera indubbiamente, però nella misura in cui dice una cosa giusta vale la pena anche meditarci sopra. Ricordati che sei polvere che non ci vuole molto a capire che, anzi molti lo fanno adesso volutamente, dopo la morte chiedono la cremazione. Quindi ritornare in polvere che poi scompare nell'ottica evangelica è quel ritornare in una realtà che ti annienta in qualche modo alla luce della fede, però quella realtà che pur ti annienta è destinata a una vita nuova in Cristo. Ecco per cui la Quaresima è un sperimentare questa novità di vita nuova che ci apre una prospettiva di una realtà di vita che continua. Senta, lei ha parlato di sobrietà. In questo periodo di crisi molte famiglie, molte persone sono costrette, potremmo dire, a una sobrietà forzata. questa sobrietà si dovrebbe tradurre in carità. Cosa possiamo suggerire, come possiamo fare per trasformare anche le nostre ricchezze, il nostro benessere diciamo in aiuto per i nostri fratelli? vogliamo parlare con qualcuno nella misura in cui abbiamo dei beni e saperli anche condividere in questo momento particolare in cui tanta gente è provata non solo nella nostra realtà ma anche nella realtà del mondo. rimaniamo così meravigliati, stupiti, amareggiati di tanta gente che è costretta a fugire dalla realtà del proprio paese e non è un'evasione, non è un fare una gita, qualche cosa, ma è affrontare la morte e tanti trovano la morte per cercare una vita nuova, una vita che dia più dignità e questo da parte dei cristiani, ma da parte degli uomini e delle donne di buona volontà è necessario che si prenda coscienza che è necessaria una solidarietà, mettersi insieme per far fronte anche a questi problemi, almeno ognuno per il proprio punto di vista, per il compito che svolge, insomma, dare un segno, una vicinanza a queste situazioni di emergenza, di dramma, insomma. Senta, lei ha fatto riferimento all'attuale situazione internazionale anche del Nord Africa. Nel tempo di Quaresima si leggono spesso nelle messe sia domenicali che feriali o anche nel breviario gli episodi relativi all'esodo. Vedere questa gente con questi fagotti che parte con poche cose fa tornare? Niente cose, perché... Sì, addirittura niente. Fa pensare, cioè ci fa pensare che quell'esodo che c'è stato una volta per il popolo di Israele più di 3.000 anni fa, in qualche modo si ripete sempre. Questo che cosa vuol dire? Che comunque non avremo mai pace e che quindi la Bibbia quasi ci vuole dire questo è il vostro destino, oppure c'è un'aspettativa di serenità e di tranquillità per il mondo? C'è un'aspettativa, perlomeno per coloro che si rifanno i valori della Bibbia, dell'insegnamento di Cristo, c'è un'aspettativa di questa realtà nuova, di questo mondo nuovo che Cristo è venuto a inaugurare e che ha lasciato a noi, sia pure con l'aiuto suo che possiamo cercare, trovare in qualche modo mettendo anche la nostra buona volontà, ma anche facendo riferimento all'aiuto che viene dall'alto per noi cristiani, la sua parola, l'insegnamento della Bibbia, dicevo prima, per noi cristiani anche la realtà dei sacramenti che Cristo ha lasciato, la realtà della vicinanza che noi incontriamo con Cristo nei vari momenti, nei vari misteri che celebriamo anche nella liturgia e anche nell'incontro con questi fratelli poveri che in qualche modo ci richiamano la vicinanza di Cristo, che non abbandona l'uomo, ma chiede una collaborazione più vera, più autentica per portarlo a un mondo migliore, costruito con la collaborazione di tutti. Senta, un'ultima domanda. Il tempo di quaresima è il tempo anche della penitenza per chi è praticante anche per la riscoperta del sacramento della riconciliazione. Secondo lei c'è ancora interesse da parte dei credenti praticanti per questo sacramento diciamo un po' imbarazzante per certi versi. Oppure è necessario in qualche modo sollecitare i cristiani a praticarlo con più assiduità? Indubbiamente nella misura in cui Cristo ha lasciato questo sacramento lega il perdono a questo gesto anche di umiltà che vi viene richiesto. Indubbiamente quello che conta di più non è tanto il gesto esterno ma è anche il gesto che scaturisce dal cuore. Un cuore che desidera rinnovarsi, una coscienza che desidera purificarsi, una solidarietà che desidera costruire per un mondo migliore a cui ce ne avevamo prima. Questo mondo migliore ci è dato, diceva, anche dal nostro impegno ma anche dalla forza che viene da Dio.